Manca davvero poco e andare a fare una qualifica olimpica è sempre una bella cosa. La voglio vivere al meglio perché è il sogno, credo, di tutti gli sportivi e fin da quando ero piccola, quando mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, io dicevo voglio andare alle Olimpiadi. Essere qua passo dal grande sogno, sono tantissime emozioni contrastanti tra l'agitazione e l'eccitazione, quindi veramente non vedo l'ora di partire. La preparazione che ho eseguito in questi mesi per prepararmi a questo grande appuntamento è stata molto intensa, ma l'ho vissuta al meglio perché volevo oltre a prepararmi bene anche divertirmi perché comunque è sempre una bella emozione essere qua, quindi con la mia allenatrice Elena Liprandi e tutto lo staff abbiamo fatto un grande lavoro e credo che nelle gare si sia abbastanza visto perché il mio percorso è sempre stato crescendo in questo periodo. Rispetto agli altri anni è cambiato che entro in pedana con molta più voglia di fare perché diciamo che negli anni prima comunque sì avevo voglia di far vedere che ero pronta, preparata, però adesso essere a un passo dal sogno lo voglio con tutte le mie forze, quindi credo che sia questo quello che è cambiato, entrare con questa grinta e consapevolezza che ce la posso fare. Essere arrivata al test event rappresenta un grande traguardo ma non è questo il mio vero obiettivo finale, l'obiettivo finale comunque è centrare la qualifica, certo essere qua è comunque un ottimo risultato e una gratificazione del lavoro svolto, però in fondo non mi accontento solo di questo ma vorrei veramente arrivare all'Olimpiade.